Il comando è chiuso, aprito non ne abbiamo bisogno qui in zona. Il comando della Polizia Municipale, completo nel restauro ma ancora ostinatamente chiuso, è il simbolo di un quartiere che si sente abbandonato. Doveva essere aperto da Bitonci, ora dovrebbe aprirlo Giordani, ma è ancora chiuso. L'arcella è tra i quartieri più difficili di Padova, essendo però il più popoloso, in questa, come nelle precedenti elezioni comunali, è stato abbondantemente battuto da candidati prodighi di promesse, che qui oramai vengono accolte con un certo disincanto. Dopo passato, la festa che ha batto l'usanto. Si viene qua per prendere voti, perché l'arcella è un terzo di Padova. Dopo, quando è ora di risolvere i problemi, fanno finta che non ci sono. Promesse elettorali di cui si attende la messa in pratica. Il degrado intanto permane nelle erbacce che invadono i parchi e persino l'ingresso del posto di polizia locale, che rimane chiuso, nei cumuli di spazzatura che si ammassano ai bordi delle strade e in quella mancanza di sicurezza che caratterizza la vita dei suoi abitanti. Perché adesso erba alta per i giardini, dove ci sono i bimbi, non c'è una protezione, nel senso che la polizia passa, oppure c'è il martedì quando c'è il mercatino, e poi non la si vede. Poi problemi maggiori, la sicurezza, poco anche alla sera, non puoi uscire, è morto. Qui a Gesella è ladri anche qua che girano sui villetti, sui madonna, e qua torno, ieri altro, si andasse da casa tre, qua torno, qua nei paesetti che avevano quattro colane di oro e vecchetti, eccetera, roba di questi giorni qua. Grazie. Grazie.